In palla, è ancora per Mastro Nicola, pallone per Bovo, Bovo attenzione c'è un corridoio, Gentile si attiva, vede, vede, quindicesimo minuto, il gol dell'ex, ma il gol dell'ex è di Padua, è di Andrea, Gentile! E' tutto pronto, facciamo le dita, le proteste, e allora sta per partire, Max Varricchio, siamo quasi al nono, attenzione adesso, parte Varricchio contro Brivio, rincorsa di Varricchio, il pallone che termina, avevo anticipato, Lovallonza proverò ad andare avanti, Muzzi in scivolata, palla per Varricchio, ancora con Varricchio, Varricchio la palla, no! L'ailone, l'ailone, ha segnato l'ailone, e che riscanto del Varricchio, che va sotto la curva a risultare!